36 morti per infortuni sul lavoro denunciati in Sicilia quest'anno da gennaio a luglio, 10 di meno rispetto allo stesso periodo del 2017. È uno dei dati che emergono nel rapporto sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro presentato dall'ANMIL, Associazione Nazionale Fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, a 10 anni dall'entrata in vigore della nuova normativa in materia. Case in aumento sono nelle province di Caltanissetta da 1 a 2, di Enna da 2 a 4 e di Palermo da 9 a 10. Per quanto riguarda il numero degli infortuni totali denunciati, secondo l'elaborazione dell'Associazione sui dati INAIR tra il periodo gennaio-luglio 2017 e lo stesso nel 2018, se in Italia si registra un meno 0,3% in Sicilia risulta una diminuzione del 2,6%. L'unico segno più lo registra Palermo di quasi l'1%, mentre la diminuzione più significativa risulta d'agrigento con il 10,8% di casi in meno, invariata la cifra delle malattie professionali denunciate in Sicilia, mentre su base nazionale c'è una variazione del più 2,5%.